Fa fatica a trovare la via del gol, ma ora ha la miglior difesa del campionato. Trova ragion d'essere nella porta difesa da Ruggero Sapri il bicchiere mezzo pieno in casa Barletta. Il doppio 0-0 contro Gelbison e Manfredonia ha portato a quattro i clean sheet consecutivi del team di Ciro Ginestra. Potevamo fare sicuramente di più, che potevamo provare a vincerla in maniera meno confusionaria, però purtroppo c'è anche l'avversario di là che era un avversario ostico, lo sapevamo, però io credo che alla fine giocare qua non è facile contro questa squadra. L'ho già dimostrato in altre partite, anche probabilmente queste partite vengono spesso decise da episodi. Oggi purtroppo l'episodio non c'è stato, continuiamo con questa striscia positiva e comunque abbiamo fatto un punto su un campo difficile. Sapri si è messo in evidenza al Miramare con almeno quattro interventi decisivi, uno su Ernaiz e tre su Babai. I galloni da titolare sono ormai del classe 2004 di proprietà del Bari, preferito da Ginestra, Guido e Provitolo. Cinque i centri al passivo in otto partite, merito di un'intesa in costante crescita nel reparto arretrato, dove Silvestri è sempre più leader. C'è da dare un merito a Ruggero Savi, c'è da dare anche un demerito perché quando arriviamo davanti alla porta dobbiamo fare gol, perché è successo prima a noi che a loro, con Cafagna e con Marilungo. È successo alla fine anche con Rizzo qua, alla fine che era la palla per di piazza. Purtroppo quando non fai gol e ci sono degli episodi che non ti girano bene, le partite non si schiodano perché questo è un campionato molto molto difficile. Il Barletta è in serie positiva da quattro partite con otto punti ottenuti contro Bitonto, Matera, Gelvisone e Manfredonia. Testa alla Palmese, Fanalino di Coda, atteso a mercoledì pomeriggio al Puttilli. Contro i Campani potrebbe esserci spazio per Schelotto e di piazza in panchina a Manfredonia. La scelta di Sperotto in panchina è perché si è allenato poco questa settimana e quando uno si allena poco e non è in condizione di fare 90 minuti è giusto che stia fuori. Matteo si è allenato bene, io ho sempre detto che Matteo quando si allena bene fa parte del gruppo, è un giocatore che non sto qua io a dire la qualità che ha e quando si allena bene e quando fa il di piazza avrà il suo minutaggio. Se la difesa ride, l'attacco non fa lo stesso, sono sei gol realizzati, solo Manfredonia, Bitonto e Gallipoli a quattro hanno fatto peggio del Barletta. Nel prossimo turno di campionato potrebbe vedersi un attacco rinnovato testato già nel secondo tempo del Miramare. Mi aspettavo una verticale diversa perché di piazza sotto quel punto di vista c'eravamo un po' abbassati quindi mi serviva un attaccante più verticale. Ho spostato Sante prima di là, prima di cambiarlo con Schelotto, ma in genere ho cambiato i tre davanti perché mi aspettavo il guizzo dei sei giocatori offensivi che ho che comunque possono farlo in qualsiasi momento. Purtroppo non è avvenuto e i cambi sono stati sotto questo punto di vista, sotto quest'ottica. E naturalmente anche sull'ottica delle tre partite in una settimana che faranno la differenza.